Entra in vigore lo stato di massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio piemontese. La Direzione Opere Difesa del Suolo, Protezione Civile Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ha dichiarato lo stato di massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio piemontese sulla base del livello di pericolo e dei prodotti forniti dalla Centro Funzionale Regionale di Arpa Piemonte. Per la prevenzione degli incendi, sottolinea l'assessore alla difesa del suolo della Regione Piemonte, Marco Gabusi, è fondamentale prestare la dovuta attenzione e rispettare le regole. Ogni cittadino può essere parte attiva nella difesa del territorio in caso di incendio, segnalandolo tempestivamente al numero unico di emergenza 112, consentendo così agli operatori di intervenire con tempestività. Un ringraziamento particolare, conclude Gabusi, va agli oltre 5.000 volontari che costituiscono il Corpo Antincendi Boschivi Regionale e che proteggono ogni giorno i nostri territori e le nostre comunità con un impegno e una capacità la cui eccellenza è riconosciuta in tutta Italia. È bene ricordare che nei periodi di massima pericolosità sono vietate, entro una distanza di 100 metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo il potenziale innesco di incendio, quali accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio. Le violazioni dei divieti e l'inosservanza delle prescrizioni comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200 euro a un massimo di 2.000, ovviamente oltre alle sanzioni penali.